I tè di Toscana oggi approdano anche ad Arezzo, una bella iniziativa, siamo con il direttore di Toscana oggi, Domenico Mugnaini. Qual è l'importanza di un'iniziativa come questa? L'importanza di essere presenti in ogni diocesi e questa è una diocesi che ci mancava con i tè. Sono contentissimo che la ripartenza sia praticamente da Arezzo, abbiamo fatto due incontri a Firenze, ma la vera ripartenza poi sarà nel prossimo attunno dopo due anni di stop per colpa della pandemia. Io credo che Arezzo meriti anche quest'occasione, che è un'occasione culturale non solo, ma è un'occasione per far vedere che la Chiesa è anche qualcos'altro, è anche cultura e la cultura fa parte dell'uomo. È bello che tra l'altro si arrivi un po' in tutte le diocesi, anche ad Arezzo, e con iniziative rilevanti che poi alla fine portano spessore e cultura un po' a tutto il territorio. Sì, portano soprattutto la possibilità di conoscere per molte persone, perché non dimentichiamo che qui a Arezzo sono venuti da Firenze e da Prato, ma spero che poi a Firenze e a Prato verranno da Arezzo e da altre diocesi, come spesso succede, proprio perché è un conoscere quelle che sono le bellezze e la cultura, ripeto, di una città come questa che non ha niente da invidiare a nessuno, neppure a Firenze. Ricordiamo anche, bello per chi non la conoscesse, anche la realtà del settimanale Toscana Oggi. Il settimanale ha 15 dorsi locali, quindi quasi tutte le diocesi della Toscana e che ogni settimana esce con 24-20-24 pagine regionali e poi 8 o 12 pagine per ogni diocesi. Noi vorremmo riuscire a diffondere sempre di più questo che è il settimanale delle diocesi, il settimanale dei Vescovi, ma è soprattutto il settimanale che cerca di parlare a chi ha il coraggio di andare oltre la notizia semplice, di chi vuole approfondire e non solo fatti di chiesa. Toscana Oggi non è solo il bollettino parrocchiale per intendersi, è qualcosa di più o almeno cerchiamo di farlo. È una realtà che io ormai dirigo da quasi tre anni e che vedo c'è tanta voglia di conoscere e questo fa piacere al direttore.